Sottotitoli di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della trasmissione mariana di Maria non quansatis per una nuova puntata dedicata, come sappiamo, a questo nuovo ciclo di catechesi che è appunto dedicato al tema della mediazione di Maria Santissima. Siamo giunti alla quarta parte della meditazione sul tema della mediazione mariana. Faccio un attimo una piccola sintesi degli interventi precedenti. Abbiamo visto in generale il tema della mediazione e del mediatore, quindi la necessaria presenza nell'ambito del rapporto con Dio delle figure di mediazione nella prima puntata un pochino introduttoria. Poi abbiamo visto il testo della Lumen Gentium 60, dove appunto si afferma la fondamentale mediazione di Cristo, l'opera della salvezza, e però la compresenza nell'opera di mediazione, ovviamente in chiave dipendente e subordinata, e del tutto efficace in forza della mediazione di Cristo, della mediazione di Maria Santissima. La volta scorsa abbiamo visto il tema della mediazione attraverso la dottrina di un grande santo, Mariano, che è San Luigi Maria Grignon da Monfort. Abbiamo anche visto il tema della mediazione, soprattutto nel tratto della vera devozione, ripercorrendo anche il passo famoso in cui San Luigi, dando il titolo a questa rubrica di Radio Buon Consiglio, afferma appunto che De Maria non cansatissio, non se ne parla mai abbastanza, e proprio perché è stata diciamo così con lei che ha collezionato tutte le grazie possibili e immaginabili da parte dell'Altissimo perché attraverso di lei poi scorressero sul genere umano. Abbiamo visto la volta scorsa che è necessario adesso fare degli step ulteriori, che sono uno, andare a vedere un grande teologo, un grande dottore della Chiesa tra l'altro, che è chiamato anche Dr. Marianus, che è, oltre che Dr. Melifus, che è San Bernardo di Chiaravalle, perché in una sua celebre omelia, che appunto si chiama l'Omelia di Acquedutto, lunghissima, ovviamente non la leggeremo tutta quanta perché dovremmo fare altre venti puntate dedicate al tema della mediazione mariana, però è certamente fondamentale andare a cogliere anche gli spunti di questa voce autorevole ecclesiale, quindi senza dubbio bisogna orizzontarsi insomma in questo modo. Non è istante che qui ci sono dei problemi, ok. Poi, step ulteriore successivo sarà andare a vedere la voce della Chiesa nella liturgia, abbiamo già accennato la volta scorsa, in particolare vedere come Maria Santissima è presente nella liturgia della Chiesa proprio con la Messa dedicata a Maria Santissima, Madre e Mediatrice di Grazie. Ecco, io non mi dilungherei troppo oltre perché introduco ovviamente la figura di San Bernardo, San Bernardo è un grande santo della Chiesa Cattolica ovviamente, vissuto nel XII secolo, San Bernardo nacque nel 1090 in Francia e morì appunto a Chiaravalle, noto anche come San Bernardo di Chiaravalle nel 20 agosto del 1153. Devotissimo della Madonna e grande dottore, sappiamo, grande riformatore anche della vita monastica, Cistercense in particolare, e devotissimo della Madonna, grande scrittore, ha lasciato una raccolta di diversi omedi, di diversi discorsi, in onore della Madonna, io leggerò quella di Acquietutto da un testo edito dalla San Paolo, dalle Paoline che si chiama San Bernardo da Chiaravalle, Sermoni per le Feste della Madonna, una raccolta di discorsi, di sermoni e di omelie appunto dedicate da San Bernardo a Maria Santissima, omelie di un certo calibro, di un certo livello, insomma, non indifferenti, tanto per comprendere, insomma, quanto amasse la Madonna, questo grande santo, è uno tra i pochi santi attualmente esistenti nella storia della Chiesa che ha ricevuto da Maria Santissima, di questo ci informa anche il Beato Arono della Ruppe, la grazia straordinaria della Lactatio Marie, si chiama così tecnicamente, quindi di ricevere il latte dal seno di Maria Santissima, questa è stata l'esperienza sua, del Beato Arono della Ruppe, di San Domenico, dopo di lui, di San Domenico da Guzman e a quanto pare anche di San Giovanni di Oed. Queste sono le documentazioni di questa del tutto peculiare esperienza di intimità mariana che hanno avuto questi grandi santi, sicuramente ci saranno anche altri, io non ne sono a conoscenza di altri. A mia conoscenza non mi risulta questa stessa cosa, anche se la riterrei molto molto probabile, ma non consta, almeno dalle fonti di mia conoscenza, che l'abbia risulta anche San Luigi Maria Grignion da Monfort né San Massimiliano Maria Corbe. Non mi stupirei, insomma, perché questi altri due certamente sono altri due grandi santi mariani, insomma, di fuori classe, insomma, di calibro straordinario, ma se anche non avessero vissuto questo, certamente era Madonna, non avrà mancato di far sentire loro in maniera del tutto particolare la sua presenza, insomma. Se non ricordo male, San Luigi Maria Monforte dicevete a quanto meno per un certo periodo della sua vita la grazia di poterla vedere continuamente, la Madonna vicina a lei che gli parlava, che lo sosteneva, che lo incoraggiava, insomma, quelle cose che stavano facendo. Insomma, anche questa, insomma, non mi sembra una cosa da poco. Bene, allora, andiamo a vedere l'omelia che si chiama proprio l'omelia sull'acquedotto, in latino è di acquedotto, occasionata da una delle feste, questa è una delle omelie pronunciate da San Bernardi in occasione della festa della Natività della Madonna. e andremo a leggere sulla base della numerazione di questa edizione che ho, i paragrafi dal 4 al, credo che sia il 9, sì, che è la parte un pochino centrale, dove approfondisce un po' proprio il tema che a noi interessa. Quindi la Madonna, il termine stesso, acquedotto, ci fa comprendere bene, già con l'immagine, ciò che vogliamo spiegare, cioè, Maria Santissima, la fonte, ovviamente, di ogni grazia, è Dio, d'accordo? I destinatari siamo noi, se si chiama la Madonna acquedotto vuol dire che è quel canale attraverso cui le grazie giungono fino a noi. Quindi l'immagine è abbastanza evidente, questo chiaramente fa ben comprendere l'idea e il concetto teologico della mediazione. Comincio la lettura, forse sarebbe il caso di prendere un paragrafo alla volta e poi fare un breve commento ai singoli paragrafi, perché la lettura complessiva di tutti e cinque paragrafi insieme poi ritorna un pochino più dispersiva, insomma, a mio avviso. Quindi invece i paragrafetti presi in se stessi sono abbastanza brevi, comprensibili, e meglio certamente optare per questa opzione. Procedo. Paragrafo 4. Avete già capito, se non erro, di quale acquedotto intendo parlare. Acquedotto che ricevendo dal cuore del Padre la pienezza della fonte stessa, ha dato a noi tale fonte, se non come in se stessa, almeno nella misura di cui noi siamo capaci. Voi sapete, infatti, a chi fu detto ti saluto piena di grazia. C'è dunque da meravigliarsi che sia così grande e così pieno l'acquedotto, la cui sommità, come la scala che vide in sogno il patriarca Giacobbe, tocca i cieli, anzi, li trascende e si spinge fino alla fonte luminosissima delle acque che stanno al di sopra dei cieli? Anche Salomone si stupiva e quasi disperato andava invocando una donna forte. Chi la troverà? Ecco perché per tanti secoli il genere umano fu privo di grazia perché appunto gli mancava quell'acquedotto tanto desiderato di cui abbiamo detto. Del resto non c'è da meravigliarsi che tale acquedotto si sia fatto aspettare così a lungo quando si pensi per quanti anni noi, uomo giusto, dovete lavorare per la costruzione dell'arca nella quale poche persone appena otto si salvarono e solo per un po' di tempo. Allora in questo primo paragrafo San Bernardo pone alcune basi capite? Qui nel suo parlare ci sono sotto come dire sottintesi e neanche troppo sottointesi una montagna di riferimenti biblici ha fatto riferimento alla scala di Giacobbe ha fatto riferimento al libro dei proverbi ha fatto riferimento al libro della Genesi quindi ha fatto riferimento al diluvio e la teologia monastica ecco prescolastica di cui San Bernardo è uno dei più grandi insigni autori ancora riceve molto diciamo così dalla fondamentale insomma modalità di fare la teologia della teologia patristica che era proprio intrisa continuamente come deve essere la teologia di riferimenti biblici diretti alla rivelazione quindi anzitutto qui c'è l'interpretazione allegorica tipica della proveniente alla fonte luminosissima delle acque che stanno al di sopra dei cieli quindi arriva fino alla sorgente alla fonte stessa noi diciamo nella preghiera eucaristica numero 2 quella più breve anche se densa di profondi contenuti teologici padre veramente santo fonte di ogni santità quindi la grazia fontale sgorga da Dio stesso questo è assolutamente in dubbio e cosa succede alla Madonna che ricevendo dal cuore del padre la pienezza della fonte la riversa su di noi attenzione però non come in se stessa ma nella misura in cui noi siamo capaci qui già c'è un'indicazione diciamo così catechetico parrenetica per ciascuno di noi che noi riceviamo tanta grazia da parte di Dio quanta ci risponiamo a riceverne quanta ne desideriamo ecco perché per ricevere le grazie bisogna andarle a prendere d'accordo la Madonna certamente è l'acquedotto ma i rubinetti dentro casa nostra devono essere l'impianto idraulico deve essere installato e poi i rubinetti bisogna aprirli quindi fuori di di metafora simbolica noi sappiamo dal catechismo che la grazia si attinge fondamentalmente per quanto riguarda la sorgente da due grandi canali che sono i sacramenti e la preghiera quindi chi frequenta pochi sacramenti chi prega poco nonostante che la Madonna sia la mediatrice di tutte le grazie insomma l'acquedotto da cui ci giungono di grazie non ne può ricevere tante ecco semplicemente appunto perché come spiega San Bernardo ha dato a noi tale fonte se non come in se stessa almeno nella misura di cui noi siamo capaci dipende da come il nostro il recipiente della nostra anima è come dire disponibile disposto e desideroso da parte del Signore di ricevere la grazia di cui abbiamo bisogno per la nostra santificazione quindi c'è questa immagine della scala di Giacobbe e dice non bisogna stupirsi se per tanti secoli poi c'è il fondamento teologico ecco fondamento teologico molto forte scritturistica scritturistico solo Maria Santissima è stata salutata come la piena di grazia come ho detto recentemente perché la settimana scorsa per grazia di Dio c'è stata la festa dell'immacolata concezione dove c'era appunto il Vangelo dell'Annuncezione e per una felice coincidenza la settimana scorsa durante gli incontri di formazione biblica che sto facendo quest'anno dedicati chiaramente al Vangelo di San Luca che è il Vangelo di quest'anno liturgico c'erano proprio i Vangeli dell'infanzia tra cui quello dell'Annunciazione quello dell'Annunciazione è fondamentale comprendere che il termine tradotto in italiano piena di grazia che è certamente una tradizione una traduzione corretta ma che non rende però tutta la l'ampio campo semantico del verbo greco perché sapete che si parla anche oggi tanto di traduzioni di polemiche di vario genere insomma già ho fatto qualche cenno inutili a mio avviso perché quando uno fa una traduzione deve già mettersi l'anima in pace che purtroppo non riuscirà a cogliere tutte quante le ricchezze le sfumature semantiche con cui un termine è adoperato nella sua significazione originaria piena di grazia in greco è che caritomene qui chi non conosce la grammatica greca deve fare un atto di fede chi la conosce può verificare le cose che dico che caritomene è il perfetto medio di carizzo tra l'altro participio perfetto medio di carizzo il tempo perfetto in greco indica un'azione che è iniziata nel passato e che prosegue i suoi effetti ancora nel presente quindi è un'azione continuata d'accordo qualcosa di simile in queste forme un pochettino temporali ci sta nell'inglese d'accordo il past continuous il present continuous ma noi non abbiamo queste cose in italiano ecco quindi ma letteralmente se uno volesse proprio cercare con una perifrasi perché non si può tradurre con una parola cioè non abbiamo noi un verbo che possiamo traslitterare un perfetto medio non possiamo un participio perfetto medio non esiste in italiano quindi uno deve ricorrere ad una perifrasi dovrebbe dire ti saluto o tu che sei stata concepita nella grazia quindi facevo notare nell'omelia quando è che la Madonna ha avuto la certezza di essere immacolata quando si è sentita salutare in questo modo e il turbamento che ha provato non è il turbamento di chi sta fuori della grazia di Dio perché le persone sono il turbamento dicono i maestri di spirito ci viene quando io sto fuori della divina volontà figuriamoci se la Madonna poteva turbarsi in questo modo ma più che turbamento quello è uno stupore perché dice ci ha avuto dice accipicchia se l'angelo mi saluta così vuol dire che sono immacolata e già stava pensando vuoi vedere quello che mi dice dopo la Madonna era molto intelligente quindi si è stata concepita nella grazia questa grazia è sempre più aumentata e ancora sta in attitudine di costante moltiplicazione dentro la tua anima questa è una perifrasi però che ci fa un attimo comprendere quindi questa pienezza di grazia è uno dei fondamenti teologici del fatto che la Madonna si situa appunto come canale come acquedotto l'abbiamo visto la volta scorsa perché se tutte le grazie stanno in lei fluiscono appunto come da canale e si diversificano io non ho tutte le grazie per carità di Dio speriamo che ci sto un grazie a Dio che non possiamo neanche essere sicuro cioè non c'è essere umano che accentri in sé ogni grazia possibile immaginabile non esiste uno solo non è esistito dove è la Madonna poi da lì capite si diversificano se uno ottima occupazione piuttosto che stare a perdere tanto tempo si legge un po' di libri dei santi di scritti dei santi di video dei santi vedrà la bellezza ecco della santità cattolica pluriforme cioè il Signore a uno gli ha dato una cosa a un altro gli ha dato un'altra ecco grazie a Dio quindi c'è questa bellissima pluriformità però solo in una c'era tutto d'accordo c'erano tutte le grazie possibili e immaginabili e quell'una è la Madonna ok andiamo al secondo paragrafo numero 5 nel testo dove facciamo uno step ulteriore ma in che modo l'acquedotto di cui andiamo trattando raggiunge una fonte tanto sublime in nessun'altra maniera è qui San Bernardo veramente se non con la forza del desiderio il fervore della devozione la purezza della preghiera sta scritto infatti vedete ancora citazioni bibliche la preghiera del giusto penetra i cieli citazione di Siracide 35 17 e chi è giusto se non Maria dalla quale è sorto a nostra salvezza il sole di giustizia anche qui citazione indiretta di Malachia 3 20 e come si è accostata all'inarrivata maestà di Dio se non bussando chiedendo cercando vedete anche qui no cita indirettamente il Vangelo chiedete vi sarà dato bussate e vi sarà aperto e cercate troverete infine trova quello che cercava e a lei fu detto tu hai trovato grazia presso Dio perché se è già piena di grazia come può aver trovato ancora grazia ma era degna attenzione di trovare quello che cercava colè alla quale non basta la propria pienezza colè che non può essere soddisfatta del bene che possiede ma come sta scritto quanti bevono di me avranno ancora sete e qui cita un passo che la liturgia della chiesa usa nelle messe mariane che è Siracide 24-20 tantissime messe in onore della madonna hanno questo testo come prima lettura maria chiede a Dio una sovrabbondanza di grazia per la salvezza del mondo lo spirito santo scenderà su di te e quel balsamo prezioso si riverserà in te in misura così ricca da traboccare copiosissimo per ogni parte è così noi già lo sentiamo i nostri volti ne sono fatti radiosi profumo lezzante del tuo nome e la tua memoria di generazione in generazione citazione del cantico dei cantici e di un salmo e ciò non inutilmente l'olio si effonde ma non si sperde per questo le adolescenti ovvero le anime semplici amano e non poco lo sposo divino il cui un guento discende non fino alla barba soltanto ma arriva a toccare i lembi della sua veste stupendo come sempre qui anche se abbiamo un'altra serie di tante citazioni bibliche che si sosseguono l'uno con l'altro due punti sono da notare certo la Madonna è stata riempita di grazia fin dal concepimento ecco però noi dobbiamo anche calcolare che questa come dire questa crescita continuate dobbiamo immaginare la vita della Madonna in crescita continua cioè perché la grazia più tu la usi e più tu la vai ancora a cercare dopo averla trovata più cresce noi possiamo proviamo io penso che nessuno si possa immaginare sapete che la tradizione è cara tra l'altro al mondo francescano quindi sapete che c'è una bellissima corona che è la corona francescana che è composta di 72 avemarie sono le sette gioie della Madonna simili ai misteri del del gaudiosi del rosario ma con qualche piccola aggiunta e poi si dicono queste due avemarie in più perché perché secondo una certa tradizione la vita della Madonna sarebbe durata 72 anni voi immaginate una che è stata concepita senza peccato originale per 72 anni compiendo atti santi in continuazione non dobbiamo cioè la grazia è un moltiplicatore cioè facciamo proprio un esempio proprio sciocco però per far capire no cioè dobbiamo dirci qualcosa no allora se il Signore ti dà uno e tu quell'uno lo recepisci ce lo dice Gesù nella parabola dei talenti no ha chiamato 5 chiede 10 ha chiamato 2 chiede 4 a chi gli chiede 1 avrebbe chiesto 2 allora se il Signore ti dà uno e tu lo usi bene quell'uno diventa 2 se poi tu lo reinvesti d'accordo quindi il nostro Signore a quel punto tiri da 2 tu lo usi bene e da 2 diventa 4 ecco poi ancora il nostro Signore ti dà 4 se vedi che tu ne hai fatto buon uso e quello diventa 8 poi ti dà 8 diventa 16 16 32 32 64 64 128 128 256 256 512 512 1024 1024 2048 e poi diventa troppo complicato fare i conti insomma capite cioè com'era che numero c'avevamo alla fine della vita della Madonna facendo questo gioco chiaro che questa è un'esemplificazione no non si tratta di questo però in qualche modo per capirci dobbiamo immaginarci qualcosa capite perché comunque sia il processo è un processo reale cioè la grazia funziona è così Dio te la dà tu la usi a chi ha sarà dato dice Gesù e te la ridà te la ridà te la ridà e più tu corrispondi più te la ridà un grande santo non è altro che uno che ha accumulato continuamente atti buoni su atti buoni mettendo sempre più e sempre meglio in maniera sempre più perfetta a frutto le grazie continue che gli ha dato nostro Signore chi santo non ci diventa attenzione non è perché Dio non ti dà la grazia ma è perché tu non la vuoi non l'accogli o non la metti a frutto parabola dei talenti quello che prende la grazia e la mette sotto sotto terra capito e questo come si è compiuto in Maria e questo vale anche per noi la forza del desiderio il fervore della devozione la purezza della preghiera chi desidera cose grandi dal Signore e le desidera con tutto se stesso cose grandi troverà chi ha una devozione fervorosa la devozione non dobbiamo considerarla come una cosa negativa la devozione è la partecipazione affettiva d'accordo alla nostra preghiera sono gli affetti l'ardore che si rivolge a Gesù alla Madonna alla Santissima Trinità fa niente insomma a colui che stiamo in quel momento contattando diciamo così nella nostra preghiera e quanto maggiore è la devozione fervorosa quanto di più le grazie si moltiplicano e poi la purezza della preghiera una preghiera quando è pura la preghiera è pura quando non è una sciorinata di richieste fatte al Signore perché fondamentalmente gli devo dire tutto quello che voglio perché lui faccia quello che voglio io ma la preghiera è pura quando c'è come dire l'investimento di tutte quante le nostre energie a conoscere quello che Dio vuole e a chiedere la grazia di farmelo sapere perché io lo possa fare la preghiera è pura quando ci mette in condizione di fare la volontà di Dio per questo che Gesù ci ha insegnato del Padre Nostro che culmina nella richiesta centrale sia fatta la tua volontà come il cielo o così in terra quindi questo moltiplicatore continuo di grazie che la Madonna c'era dentro di sé di far ripensare ai vecchi esami di economia politica quando Keynes si era inventato su fare si fuori uscire negli Stati Uniti dalla depressione del 29 insomma il moltiplicatore io quando penso al moltiplicatore penso al motore a turbina continuamente acceso del cuore della Madonna che moltiplicava sta grazia in continuazione dice attenzione dice ma com'è che dice tu hai trovato grazia presso Dio attenzione l'angelo dice attento tu sei già piena di grazia ma hai trovato grazia presso Dio ma come è possibile che uno che è già piena di grazia trova grazia presso Dio dice attenzione questa frase se l'angelo lo pronuncia in relazione alla prossima incarnazione cioè tu non soltanto hai trovato una super grazia per te per cui tu vai su vette chi ci arriva là sopra ma tu hai trovato grazia per tutti perché attraverso di te si realizzerà l'incarnazione che è l'ingresso nel mondo di colui che ti darà la grazia all'umanità ma anche tu troverai grazie sufficienti per darle a tutti non solo a te quindi c'è questa sovrabbondanza dice Maria chiede a Dio una sovrabbondanza di grazia per la salvezza del mondo dicendo quanti bevono di me avranno ancora sedi è bellissimo questo qui capite sotto questo punto di vista se mi posso permettere se qualche sacerdote come me dovesse un giorno ascoltare vabbè anzitutto questa omelia e farci subito una riflessione questo lo insegnava anche Sant'Omaso Davino un sacerdote per esempio un sacerdote è impegnato su due fronti prima un sacerdote deve diventare santo per sé quindi deve chiedere e ricevere grazie da parte del Signore per cosa? per la santificazione propria per comprare deve essere santo come tutti gli altri fedeli anzi un po' di più perché deve porsi anche come esempio Sant'Agostino diceva con voi sono cristiano poi però un prete è anche costituito proprio dell'essenza del sacerdotio ministeriale che è quello che differisce dal sacerdotio comune e che lo sacerdote è costituito come tale per far diventare santi gli altri da un punto di vista oggettivo quindi indipendentemente da lui e da quello che lui è attraverso i sacramenti i sacramenti sono amministrati per la santificazione altrui io non mi battezzo da solo battezzo un bambino io non mi posso assolvere da solo assolvo il prossimo d'accordo ecco però è tutta la ministerialità sacerdotale che è finalizzata la santificazione del prossimo allora Gesù diceva allora tu non Gesù scusate Santo Maso d'Aguino diceva un prete deve essere ben consapevole che deve avere tanta grazia da essere santo di per se stesso per poter dare il buon esempio ma questo non basta deve avere anche un'altra surplus sovrabbondanza di grazia perché all'immagine della Madonna deve avanzargliene per il prossimo io mi ricordo ero seminarista quando lessi queste cose e mi avevo subito io me ne vado d'accordo perché ti faccio a fare una cosa del genere poi grazie a Dio fui rassenerato insomma fui consolato però comunque il concetto rimane quindi questa finalizzazione anche della vita e della persona della Madonna non solo a sé ecco ma all'incarnazione del verbo e alla santificazione di quelle che poi sarebbero state le membra del corpo mistico di Cristo incarnato sin lei quindi questo è molto è molto bello dovremmo fare in tempo sì speriamo a leggere anche il sesto paragrafo sì magari oggi facciamo queste prime tre parti e poi facciamo anche le altre scruta bene un uomo il disegno di Dio cerca di capire il disegno della sapienza il disegno della pietà per ridicare di celeste rugiada tutto il terreno Dio vuole prima impregnarne il vello qui c'è riferimento biblico all'episodio di Gedeone per redimere il genere umano ne depose tutto il prezzo in Maria e perché probabilmente perché Eva venisse assolta per merito della figlia e d'ora in poi fosse archiviata la causa dell'uomo contro la donna Adamo non dire più la donna che mi è posta accanto mi ha dato il frutto del legno antico di piuttosto la donna che mi è posta accanto mi ha nutrito di quel frutto benedetto dopo dirò qualcosa su questi passaggi amorevolissimo disegno di Dio in esso si nasconde ancora qualche cosa non è tutto è vero ma non può io penso soddisfare appieno i nostri desideri è dolce il latte ma premerlo fortemente ne sprizza la grassezza del burro perciò scudiamo ancora più a fondo per capire quanto affetto vuole che noi nutriamo per Maria colui il quale depose in lei la pienezza di ogni bene affinché noi sappiamo che ogni motivo di speranza ogni motivo di grazia e ogni motivo di salvezza ci vengono da lei che sta vicino a Dio dispensatrice di ogni delizia spettacolare davvero giardino di tutti i piaceri dove il vento divino aspira non solo quando arriva ma soffia con intensità con nuova venuta affinché ricurgitano da ogni parte i suoi aromi ovvero i carismi delle sue grazie togli pure questo sole che illumina il mondo e il giorno dove andrà a finire togli Maria questa stella del mare mare particolarmente grande e immenso e che cosa ci rimarrà se non nebbia e ombre di morte e tenebre fittissime guardate qui veramente quando si leggono certe cose anche allora distinguiamo un pochettino il commento in tre parti a questo paragrafetto il primo allora qui dobbiamo un attimo parlare anche della donna di queste cose cioè una delle omelie che ho fatto proprio durante sempre la festa dell'immacolata concezione credo si chiama proprio così Eva o Ave a ste pure donne io dicono hanno passato uno sacco di guai poverine nel corso della storia a volte anche queste sono grazie a Dio insomma che posso dire esasperazioni e errori di altri tempi come dire addossando alla donna la donna è la seduttrice è quella che è seduta d'amo quindi è cattiva cioè ci sono state nel corso della storia dell'umanità insomma adesso non scendiamo in polemiche non facciamo riferimenti insomma delle cose molto molto brutte e mortificanti insomma per queste povere donne no e però io dico passi non passa però passi fino a quando non venisse la Madonna sulla terra ma dopo che è arrivata Maria e qui abbiamo il riscatto d'accordo quindi cioè capito cioè la donna non la puoi più vedere era sbagliato pure prima per carità soltanto come fonte di rovina ma qui abbiamo la super donna cioè qui abbiamo la donna delle donne per cui cioè deve nascere un sentimento di immensa gratitudine verso questa creatura e magari forse i tempi se fossero un pochino più accelerati insomma vabbè che poi dispone insomma tutto il buon Dio però c'è un pochino una carenza per cui anche questa scoperta diciamo così questa rivalutazione quanto mai opportuno del ruolo della donna nella chiesa del santo e giusto ruolo ovviamente della donna nella chiesa però deve essere anche apprezzato sottolineato conosciuto evidenziato valorizzato nella sua intrinsecità chiaramente in una spiritualità mariana che poi è una spiritualità cristiana perché cioè la mariologia per chi la studia bene è proprio strettamente assai proprio a braccetto l'abbiamo visto nelle prime meditazioni di questo ciclo di catechesi la mariologia ecclesiotipica o cristotipica cioè è chiaro che non si può capire la madonna se non riferimento a Cristo e alla chiesa quindi il taraffa troppi compartimenti stagni non serve quindi cioè la coppia Cristo e Maria che sono appunto il nuovo Adamo e il nuovo Leo sono proprio l'immagine della nuova creazione dell'umanità rinnovata capito quindi mortificare un pochino la figura della madonna come effetto accidentale a mio avviso comporta anche una certa mortificazione ecco in almeno almeno implicita della bellezza dell'essere femminile che deve trovare in Maria la propria fonte di sana di santa di corretta e di giusta aspirazione Eva è stata assolta da San Bernardo dopo la morte dice vabbè la donna ha fatto di guai ho capito un'altra le ha più che riparati d'accordo più che riparati quindi non cominciamo a dire la donna è colpa sua che è matato del frutto dell'albero malato dell'albero proibito dice Adamo non lo dì piuttosto la donna che mi è posta accanto mi hanno diritto del frutto benedetto noi ogni volta che diciamo l'Ovia Maria benedetto il frutto del tuo grembo Gesù non il frutto proibito è lei che ce lo dà quindi come dire valutiamo bene insomma la Madonna perché ne va anche della corretta e della doverosa valutazione della bellezza dell'essere donna anche recentemente il Papa ha richiamato la Chiesa al valore della femminilità ma dove lo trova questo qui questo si trova in Maria cioè un'anima autenticamente Mariana adesso io vi racconto una cosa che riguardava San Bernardo adesso cioè più sotto San Bernardo dice davvero giardino di tutti i piaceri dove il vento divino spira non solo quando arriva ma soffia con intensità e con nuova venuta affinché sappiano tutti che ogni motivo di speranza di grazia e di salvezza ci vengono da lei che sta vicino a Dio dispensatrice di ogni delizia allora qui c'è poco da dire chi scrive queste cose le scrive per conoscenza diretta ho detto che San Bernardo era innamorato della Madonna non per scherzo si narra io l'ho letto da qualche parte non me lo ricordo ecco che una volta però la Madonna apparendo a San Bernardo io lo ricordo non vorrei assolutamente come dire fare torta la figura di San Bernardo ma io questa cosa nella memoria ce l'ho non bisogna prenderla come oro colato al 100% perché non sono in grado di citarne la fonte però io ricordo di aver sentito questa cosa e di averla letta perché mi fece molta impressione insomma anche a me sapete cosa la Madonna a San Bernardo questa è la storia dice Bernardo figlio mio amato mio io apprezzo tutto il tuo amore te lo ricambio come vedi ti amo tanto però ti devo chiedere una cosa tu devi diventare più buono e più dolce perché sei troppo severo sei troppo rigido sei troppo austero non mi assomigli e San Bernardo è passato dalla storia oltre che come il Dr. Mariano come il Dr. Melliflus quindi come il dottore della dolcezza l'ho preso talmente tanto sul serio ecco l'aspetto diciamo bello della femminilità diciamo così prettamente intesa della chiesa no la donna quando è donna degna di questo nome insomma che assomiglia a Maria non è la seduttrice ma è appunto la corredentrice come è Eva ecco quindi non è quella che porta al male come fu Eva ma quella che porta il bene la donna cosa ha quali sono le sue grosse risorse uno l'amore due la dolcezza tre la capacità di comporre cioè le liti di mettere pace le donne hanno sempre fatto questo quarto il libro di Proverbi ne parla così la donna virtuosa è quella che sa tenere la bocca chiusa che è è il contrario della donna non virtuosa d'accordo perché le donne quando una donna c'è un divento esagera quando una donna c'è un pregio esagera la donna è così è eccessiva nel bene così come nel male allora cioè se sentiamo anche a tante cose che continuamente ripete il Papa il chiacchiericcio dove è che se uno impara a tenere la bocca è chiusa dalla Madonna il mettersi uni contro gli asi minare a zizzare dove uno impara invece a mettere dalla Madonna l'amore che è necessario d'accordo farlo circolare i cristiani erano riconosciuti dall'amore reciproco guardate come si amano hanno propagato il cristianesimo non con il proselitismo ma per il contagio d'accordo guarda questi come campano non voglio dire perché non voglio io voglio diventare come loro guarda quanto si vogliono bene ma guarda come si aiutano ma guarda come mettono le cose in comune guarda come si rispettano guarda come non si sgridano guarda come non si trattano male e chi ce lo insegna questo più di ogni altro chi è il maestro dell'amore è la donna è la ma donna e chi è la maestra della dolcezza dobbiamo pensare anche ai nostri modi di fare no personali interpersonali o ecclesiali cioè un'anima che vuole essere devota della madonna e noi qui san bernardo dice una cosa molto bella togli maria questa stella del mare e che cosa rimane se non nebbia e ombre di morte scrutiamo più a fondo per capire quanto affetto vuole che noi nutriamo per maria colui il quale depose in lei la penezza di ogni bene quindi la devozione alla madonna dobbiamo alimentarla ma deve essere una devozione vera come diceva san bernardo e che cosa ti porta la devozione vera diceva padre pio che la vera devozione consiste nell'imitazione ma ti pare che maria che la dolcezza stessa la bontà stessa come direbbe la madonna una cosa una correzione da fare io devo farla come la farebbe lei cioè certi stili che si vedono anche presenti in vari ambienti di chiesa non possono esistere non devono esistere dobbiamo toglierceli d'accordo punto perché non sono giustificati da nessuna cosa fosse anche la più alta e più grande causa di questo mondo la più alta e più grande causa di questo mondo va certamente tutelata perseguita e difesa ma con lo stile cristiano che è stile mariano d'accordo amore dolcezza dolcezza costruzione di pace e silenzio quindi comprendiamo anche come cioè è tutto quanto quindi dire valorizziamo la chiesa al femminile guardiamo la madonna però d'accordo non dobbiamo guardare il femminile inteso in senso non positivo ecco qui san bernardo esorta guardiamola guarda che questa l'ha completamente annullata Eva ha riscattato la figura della donna ha riproposto la bellezza della donna e Dio non si è sbagliato perché nel dimorfismo maschio cioè l'uomo secondo la genesi è maschio e femmina quindi è certo che il maschio deve fare il maschio no? ecco però come tutte quante le cose il maschio deve fare il maschio ma nelle cose in cui è debole in cui è forte la donna deve prendere esempio dalla donna e cercare di giungere almeno alla sufficienza cioè un uomo non avrà mai una capacità d'amore come quella di una donna però se un uomo si mette alla scuola di Maria certamente alcune asperità alcune tendenze alcune polemicità le le risolve le elimina o quantomeno le riduce profondamente ecco perché la la vita si la fecondità di una coppia per esempio di un uomo o di una donna è nella messa in comune di queste risorse è nell'attingere reciprocamente dalla diversità dell'uno dell'altro la ricchezza dell'altro e questo è anche uno stile ecclesiale questo qui che dobbiamo tutti quanti imparare e non fa niente se vediamo qualcuno vicino a noi che ha altre frequenze o ha altri stili o ha altri modi di procedere non fa niente cioè noi alcune idee ce le dobbiamo avere chiare d'accordo e una volta che so chiare io mi orizzonto su queste posizioni con cognizione di causa avendoci pensato avendo fatto un discernimento avendo agito in coscienza ovvero se qualcun altro vuole orizzontarsi altrove si accomodi pure ecco però con il dovere che ha anche quest'altro di confrontarsi con l'oggettività della verità quindi con lo stile che ci avevano Gesù e in particolare la Madonna che è non una presenza accidentale come stiamo vedendo qui nella Chiesa ma una presenza essenziale di riferimento normativa sotto vari punti di vista ben riprenderemo se ti vuole lunedì prossimo la conclusione di questa splendida Omedia di San Bernardo con i paragrafi 7, 8 e 9 intanto vi benedico vi auguro a tutti una buona settimana Ave Maria grazie a tutti